Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Come vi avevo anticipato già in un video precedente, se non erro quello della Frozen Mini La Sony Mini 4K che è qui e vi ci farò vedere altri video e creazioni che abbiamo fatto Oggi vi presento, che è sempre qui in funzione, giorno e notte, praticamente poveraccia lavora meno schiavo E sta facendo un po' di casino, penso si senta Vi presento l'Artillery Genius, l'ultimo acquisto che abbiamo fatto in casa come stampante FDM Perché al momento iniziamo ad avere tre stampanti a resene LCD E questa è la nostra prima stampante FDM a filamento, quindi in plastica Scusatemi ragazzi se sentite un po' di confusione, ne sta facendo un pochino Ma è normale, dipende dal tipo di dettagli e di figure che deve fare Ve ne parlo a breve, dopo la sigla In passato avevamo preso un'altra FDM, senza fare nomi né niente Le marche però non ci era piaciuta Per due motivi, uno era un po' troppo difficile da calibrare e si scalibrava facilmente E secondo era un po' complicata come macchinetta Sicché abbiamo atteso un po' di mesi Abbiamo visto una buona offerta per l'Artillery Genius Che ora si aggira intorno ai 200€, una cosa di genere Comunque tanto vi lascio il link in descrizione E la potete acquistare direttamente da o il sito ufficiale Ma io vi lascio il link di Gearbest Tra l'altro a me è arrivata in 4 giorni d'agosto Quindi voglio dire, figuratevi Filamento light grey, grigio chiaro Comprata ancora una volta da 3djake.it Secondo link in descrizione Che a noi sta piacendo da morire Infatti siamo già al terzo ordine di bobina Perché guardate cosa sta stampando Intanto qui è tipo al 92% Sta stampando da quasi 17 ore E stiamo facendo una Dice Tower Una Dice Tower che tra l'altro Uno dei nostri board game preferiti È le case della follia Quindi abbiamo fatto questa Dice Tower Tipo casa comunque gotica O anche stile vittoriano Bella da morire Ve la faremo vedere dipinta Tutto quanto Questo è il primo tavolo Poi ne manca un altro Bisogna fare altri due piani E verrà una cosa abbastanza grande Tipo così Le Dice Tower sono quelle cose Che io e mia moglie abbiamo sempre adorato Che servono per tirare i dadi Semplicemente Fanno un po' di scena Ci può mettere delle luci Ci può mettere delle cose strane Ma quello che conta È che servono per non stare a tirare i dadi Che vanno a giro per la casa Questa qui c'ha un buchino sul tetto Voi ci buttate i dadi dentro I dadi rotolano per tutte le stanze E poi alla fine escono nel giardino Ed è una figata unica Ve la faremo vedere Comunque vedete come sta stampando Dettagli perfetti Anche se Anche se Ora poi vi faccio vedere due stampe Che abbiamo fatto Una perfetta E una che un po' ha fatto dei fallimenti Abbiamo avuto dei problemi con gli slicer Perché i programmi di slicer Vanno settati Come dio comanda Per file e per segno Devono essere veramente a bomba E il problema è che ragazzi Queste cose qui Per quanto questa è una stampante E ve lo giuro È una stampante tirata fuori dalla scatola Montata all'asse Z Montata alla bobina Piciato pulsante E parte Ma non scherzo E parte stampa Non dovete fare nulla A parte calibrarla Che arriva già quasi calibrata Però il problema è che Lo slicer Non è così semplice Da settare Perché c'ha tanti appunto valori Tanti settaggi Ragazzi non sono giocattoli Queste qui sono cose Che ci fanno dei corsi Che pagate centinaia d'euro Perché le stampanti 3D Non sono così immediate E facili Quelle con la resina Hanno un tipo di slicer Quelle con la FDM Ne hanno un altro Poi tra una figura e l'altra Cambia anche il tipo di settaggio O fra un filamento e l'altro Tipo tra un filamento Della Jake in PLA Un SPLA della Sunlu Cambiano anche Il calore dell'estrusore Il movimento La retrazione Insomma Da filamento e un altro Dovete cambiare settaggi Quindi abbiamo avuto Qualche problema E fra questi problemi qui C'è stato sicuramente Che ha fatto un po' Di dettagli persi E zigrinati Che ora vi facciamo vedere Da vicino Questo qui sarebbe Un Draco Malfoy Della saga di Harry Potter Tipo Bubblehead Che la bacchettina È venuta malissimo Ma per il fatto Che non era supportata E forse anche È estruso un po' troppo Quello non lo so Bisognerà andare a vedere I settaggi Il giacchettino Il cappotto Qui sotto Uguale E poi più che altro Sotto il mento Qui è venuto Veramente ruvido Che andrebbe scantavetato Da morire Tutto il resto Invece i capelli Anche il retro Sono venuti bene A parte l'attaccatura Quindi sicuramente È stato un problema Di slice e sbagliati Ora C'è una verità In tutto questo La stampante 3D FDM In plastica Può stampare qualunque cosa Sono cavolate Che vi dicono Non può stampare Una miniatura Di 2 cm Non è vero Le fa bene E anche dettagliate Però richiedono Un tipo di attenzione In più nello slicer Perché una casa Così viene perfetta Una figura Piccolina Come questa qui Fa un pochino Vendere una cosa Del genere Però insomma Per tenerlo in casa È comunque una prova Che vi aiuta a capire I limiti della macchina O il limite vostro Dove avete sbagliato Rullo di tamburi Tutututututun Cos'è venuto fuori Regalo che mi ha fatto Mia moglie Ha preso tutto quanto Un piatto Ha preso tipo Quante amore 20 ore di stampa Sì Circa Circa 20 ore di stampa Divise in pezzi E ragazzi C'ho ancora La pelle d'oca Ve lo dico Non me lo chiedete Perché non si può vendere È coperto da copyright Ovviamente Ragazzi Ora poi Ve lo facciamo vedere Da vicino Con delle foto Questo tirato fuori Con Il PLA Della 3djake.it Ricordo Link in descrizione E questo è Michael Myers La cui testa È intercambiabile Perché c'è sia La versione della testa Del film di Rob Zombie Che anche quello Di John Carpenter Questo che vedete ora È quello di Rob Zombie Che poi è lo stesso Cambia soltanto Perché la fisionomia È la salopetta D'operaio E quella cambia la testa Cioè ragazzi Guardate quanto Cavolo è grande E guardate Quanto è bello Come è venuto fuori Questo Michael Myers E lo sapete Che è il mio film Slasher preferito Questo l'ha fatto Perfetto Perché è una figura Più grande È una figura Che ha tanti dettagli Ma sono dettagli Più grossi Rispetto a una figura Come Draco Malfoy Una babola Di più piccolina Quindi questo l'ha fatto Veramente Perfetto Poi magari Qualche imprecisione C'è sempre Però questo ha fatto Veramente un bel lavoro E guardate qui Il risultato In caso di qualche Imprecisione C'è sempre Il Milliput Che sarebbe La materia verde Green Stuff Dovete avere Un po' di manualità A me non riuscirebbe A mia moglie Per andare Per andare appunto Un po' a coprire O a limare Tutti quanti Gli errori Che potrebbero Nire fuori Buchi O cose del genere Potete un attimino Andare A levigare La macchina È una macchina Silenziosa Non sembrerebbe Però dipende Anche dalla figura Che gli fate fare Dalla velocità Di retrazione Dipende Da tante cose Perché la macchina Vi giuro Ci potete dormire No accanto Sopra Però A volte È un pochino Più Rumorosa O anche Quando stacca Per andare Da una parte All'azienda Un stock 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 È una Da giù Fa La rutta Corri su Viene a vedere Invece sta facendo Tutto perfetto Guardate là Cioè non ha perso Un layer Questi qui che vedete Invece sono i supporti Che sta facendo Intorno al piano È una macchina Silenziosa È una macchina Veloce È una macchina Facilissima da calibrare Vedete qua Su in cima C'ha Spero si veda C'ha comunque Un sensore Che è il sensore Dove passa dentro Il filamento E lo porta giù Potete lavorare anche senza Se si rompe Cambiatelo Però se si rompe Potete lavorare senza L'unica cosa Che questo sensore Fa sì che se La bobina finisce O salta la luce La macchina riprende Da stampare Da dove era Oppure se la bobina finisce Interrompe la stampa Cambiate la bobina E prende da dove era Quindi è un sensore Che comunica alla macchina Che c'è da Da fare un cambio Che o c'è un problema O comunque la bobina È finita Vedete Una figata Ha Un sistema di cinghe Per muovere appunto L'estrusore E una cosa Che non la posso girare ragazzi Perché sta stampando Ma che abbiamo apprezzato Da morire L'asse Z Che vedete Il doppio C'ha due viti dietro Da regolare L'asse Z Ha una cinghia Che le collega Perché la macchina Che avevamo prima Le dovevamo regolare Insieme Quindi alla fin fine Se le regolavi Una di più E una di meno Magari l'asse Questo qui Veniva storto E stampava male Invece questa Ci hanno messo Una comodissima cinghia E Come regoli Uno Si regola Di conseguenza Anche l'altro In più Non si vede qui Nell'estrusore Ma Al lato E' già pronta Per il BL touch C'ha già l'attacco Per il BL touch Quindi se volete montare Il BL touch Che Non li sprecate Quei sordi Ve lo dice Un nabbo Una capra Ignorantissimo L'ultimo arrivato qui Non lo prendete Perché Aveva ragione Il Piratz Non serve a nulla E' una macchina Talmente facile Da Levelare Non ha nemmeno Il doppio piatto Ce n'ha soltanto uno Che ragazzi Guardate C'ha delle viti grosse così Cioè Non si può sbagliare A livellare una cosa del genere E Metterci il BL touch Sì Magari va aiuta Però Ragazzi L'ho livellata io Che non ci apisco nulla La livella chiunque Quindi Quei 50 60 euro Risparmiatele magari Per prendere un paio Due o tre bobine In offerta Grandezza del piatto 22 Per 22 Per 25 D'artezza Che ha un po' meno Di altre macchine Tipo la Lotmax Arriva a 30 Cosa del genere Però Sì Ci si lavora bene uguale L'unica cosa L'unica 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 Che abbiamo visto Scalda leggermente meno Oioi Un'altra botta Scalda leggermente meno Sui bordi Però Oh Qui siamo su bordi E attacca Però Sì è vero Andando a vedere la temperatura Scalda leggermente meno Comunque Artillery genius Passata Strattene I vuoti E se volete E se volete un FDM Affidabile Per iniziare Veramente Montate l'asse Montate la bobina La regolate E pronte stampate Questa è quella che fa per voi Però Vi ricordo Un possibile fallimento E un possibile capolavoro C'è un attimino Da settarla per bene A livello di slicer A proposito di slicer Vi consiglio Per iniziare Di usare I profili CD3D Printer Beginner Perché lui ha i profili Sia della Sidewinder Che è la genius Solo col piatto più grande Che della genius Comunque vi lascio Il link in descrizione E come buonissimo Programma di slicer Al solito abbiamo Prusa Abbiamo cura E un altro Che noi ci stiamo trovando Veramente bene da morire Idea maker Poi se volete andare Su cose più professionali C'è Simplify 3D Però quello È a pagamento Quindi quello Dovete comprare Questi qui sono i 3 slicer migliori Comunque vi lasciamo Un link in descrizione Per scaricare i profili Profilo che noi stiamo usando Lo stesso per stampare E questo ragazzi è qua Fatemi sapere cosa ne pensate Se cercate Una macchina Su 200 220 euro Ma dovrebbe venire 200 In offerta Primo link in descrizione Per andarla ad acquistare E secondo link Per il filamento Della 3dj .it Che ripeto Oh mi scanzo Guardate voi come sta stampando Perfetto E attacca il piatto Che è una bellezza Quindi ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate E alla prossima Ciao